Ci sono i pacchi di pasta fatti arrivare dal più noto marchio abruzzese, le coperte fornite dalla Croce Rossa, pizze e pasticcini recapitate ogni giorno dai bar di zona, una stufa elettrica non proprio rassicurante, e pezzi di cassette usati per accendere il fuoco e riscaldarsi. Da 30 giorni ormai i lavoratori interinali dell'Attiva presidiano notte e giorno all'interno di una tenda da campo per ottenere attenzione dalle istituzioni e riavere il loro posto di lavoro. Si parla di più di 40 famiglie proprio ieri, in tarda serata, è arrivata la notizia del parere irricevibile da parte della Corte dei Conti. È stato il sindaco Marco Alessandrini a dare la brutta notizia. Adesso chiaramente la palla passa al sindaco, però da come è cominciata non è cominciata bene, perché loro parlano di cose che non stanno né in cielo né in terra. Qui adesso secondo me sono intervenuti i dirigenti di Attiva, perché si sono inventati la storia di 15 operai a rotazione per fare un tirocinio. Se il sindaco pensa che noi dopo 8 anni dobbiamo fare il tirocinio per riprenderci quello che era nostro, allora mi sa che il sindaco non ha capito bene che stiamo a fare qua. Sono 30 giorni che siete qua a protestare, adesso che cosa fate dopo questa notizia? Adesso aspettiamo, perché stiamo aspettando da un mese, attendere un giorno in più non ci costa niente. Aspettiamo lunedì l'incontro del Vertice e vedremo che cosa diranno loro. Poi ci dovrebbe essere un ultimo incontro in consiglio per vedere la decisione che prenderanno. E poi in base a quello noi agiremo.